di giovanni verga i malavoglia voce di lorenzo pieri capitolo tredicesimo prima parte padron toni come il nipote gli arrivava a casa ubriaco la sera faceva di tutto per mandarlo a letto senza che gli altri se ne avvedessero perché questo non c'era mai stato nei malavoglia e gli venivano le lacrime agli occhi la notte quando si alzava e chiamava alessi per andare al mare lasciava dormire l'altro tanto non sarebbe stato buono a nulla toni dapprima se ne vergognava e andava ad aspettarli sulla riva appena tornavano con la testa bassa ma poco a poco ci fece il callo e diceva fra di sé così domani faremo ancora domenica il povero vecchio cercò tutti i mezzi di toccargli il cuore ed in nascosto gli fece persino esorcizzare la camicia da don giammaria e spese tre tarì vedi gli diceva questo non c'è mai stato nei malavoglia se tu prendi la mala strada di rocco spatu tuo fratello e le tue sorelle ti verranno dietro una mela fradicia guasta tutte le altre e quei soldi che abbiamo messo insieme con tanto stento se ne andranno in fumo per un pescatore si perde la barca e allora che faremo toni restava a capo chino o brontolava fra i denti ma l'indomani tornava da capo e una volta glielo disse che volete almeno quando non sono più in sensi non penso alla mia disgrazia che disgrazia tu hai la salute sei giovane sai il tuo mestiere che ti manca io che son vecchio e tuo fratello che ancora un ragazzo ci siamo tirati su dal fosso ora se tu volessi aiutarci torneremo ad essere quelli che eravamo se non più col cuore contento perché quelli che sono morti non tornano più almeno senza altre angustie e tutti uniti come devono stare le dita della mano e col pane in casa se io chiudo gli occhi come resterete voi altri adesso vedi mi tocca ad aver paura ogni volta che ci imbarchiamo per andar lontano e son vecchio quando il nonno riesciva a toccargli il cuore toni si metteva a piangere i fratelli che sapevano tutto si rincantucciavano appena lo sentivano venire come il fosse un estraneo o quasi avessero paura di lui e il nonno con lo rosario in mano borbottava o anima benedetta di bastianazzo o anima di mia nuora maruzza fatelo voi il miracolo come mena lo vedeva arrivare con la faccia pallida e gli occhi lustri gli diceva entra da questa parte che c'è il nonno e lo faceva entrare dalla porticina della cucina poi si metteva a piangere cheta cheta accanto al focolare tanto che ntoni disse alla fine non voglio andarci più all'osteria neanche se mi ammazzano e tornò a lavorare di buona voglia come prima anzi si alzava prima degli altri e andava ad aspettare il nonno alla marina che ci volevano due ore a far giorno i tre re erano ancora alti sul campanile del villaggio e i grilli si udivano trillare nelle chiuse come se fossero lì accanto il nonno non ci capiva più nella camicia dalla contentezza andava chiacchierando con lui onde provargli come gli volesse bene e fra di sé diceva son l'anime sante di sua madre e di suo padre che hanno fatto il miracolo il miracolo durò tutta la settimana e la domenica antoni non volle nemmeno andare in piazza per non vedere l'osteria da lontano e gli amici che lo chiamavano ma si rompeva le mascelle a sbadigliare tutto quel giorno in cui non aveva nulla da fare e non finiva più oramai non era un ragazzo per passare il tempo ad andare per le ginestre nella sciara cantando come suo fratello alessi o l'annunziata o a spazzarla casa come mena e nemmeno un vecchio come il nonno per divertirsi ad accomodare i barilotti sfondati e le nasse sfasciate egli restò seduto accanto alla porta nella strada del nero che non ci passava nemmeno una gallina e sentiva le voci e le risate all'osteria tanto che andò a dormire per non sapere che fare e il lunedì tornò a fare il muso lungo il nonno gli diceva per te sarebbe meglio che non venisse la domenica perché il giorno dopo sei come se fossi malato ecco quello che era meglio per lui che non venisse mai la domenica e gli cascava il cuore per terra a pensare che tutti i giorni fossero dei lunedì sicché quando tornava dal mare la sera non aveva voglia nemmeno ad andare a dormire e si sfogava a scorrazzare di qua e di là con la sua disgrazia tanto che infine venne a capitare di nuovo all'osteria prima allorché tornava a casa malfermo sulle gambe si ficcava dentro mogio mogio facendosi piccino e balbettando delle scuse o almeno non fiatava ma ora alzava la voce litigava con la sorella se l'aspettava sull'uscio con la faccia pallida e gli occhi gonfi e se gli diceva sottovoce d'entrare dalla cucina che in casa c'era il nonno a me non me ne importa rispondeva il giorno dopo si levava stravolto e di cattivo umore e cominciava a gridare e bestemmiare dalla mattina alla sera una volta successe una brutta scena il nonno non sapendo più che fare per toccargli il cuore l'aveva tirato nell'angolo della cameruccia ad usci chiusi perché non udissero i vicini e gli diceva piangendo come un ragazzo il povero vecchio oh ntoni non ti rammenti che qui c'è morta tua madre perché vuoi darle questo dolore a tua madre di vederti fare la riescita di rocco spatu non lo vedi come stenta e si affatica la povera cugina anna per quell'ubriacone di suo figlio e come piange alle volte allorché non ha pane da dare agli altri suoi figliuoli e non le basta il cuore di ridere chi va col lupo a lupa e chi pratica con zoppi all'anno zoppica non ti rammenti quella notte del colera che eravamo qui tutti davanti a quel lettuccio ed ella ti raccomandava mena e i ragazzi ntoni piangeva come un vitello slattato e diceva che voleva morire anche lui ma poi ad agio ad agio tornava all'osteria e la notte invece di venire a casa andava per la via fermandosi dietro gli usci con le spalle appoggiate al muro stanco morto insieme a rocco spatu e a cinghia lenta e si metteva a cantare con loro per scacciare la malinconia infine il povero padron toni non osava più mostrarsi per le strade dalla vergogna il nipote invece per evitare le prediche veniva a casa con la faccia scura così non gli rompevano la devozione con le solite prediche già le prediche se le faceva da se stesso a voce bassa ed era tutta colpa della sua disgrazia che l'aveva fatto nascere in quello stato e andava a sfogarsi con lo speziale e con altri di quelli che avevano un po di tempo per chiacchierare dell'ingiustizia sacrosanta che c'è a questo mondo in ogni cosa che se uno va dalla santuzza per dimenticare i suoi guai si chiama ubriacone mentre tanti altri che si ubriacano a casa di vino buono non hanno guai per la testa né nessuno che li rimproveri o faccia loro la predica di andare a lavorare già che non hanno nulla da fare e sono ricchi per due eppure tutti siamo figli di dio allo stesso modo e ognuno dovrebbe avere la sua parte egualmente quel ragazzo lì ha del talento diceva lo speziale a don silvestro e a padron cipolla e a chi voleva sentirlo vede le cose all'ingrosso così alla carlona ma il sugo c'è non è colpa sua se non sa esprimersi meglio è colpa del governo che lo lascia nell'ignoranza per istruirlo gli portava il secolo e la gazzetta di catania però ntoni si seccava a leggere prima di tutto perché era una fatica e quando era soldato gli avevano insegnato a leggere per forza ma adesso era libero di fare quello che gli pareva e piaceva e aveva un po dimenticato come si cacciano insieme le parole nello scritto poi tutte quelle chiacchiere stampate non gli mettevano un soldo in tasca che gliene importava a lui don franco glielo spiegava lui perché avrebbe dovuto importargliene e quando passava a don michele per la piazza glielo indicava con la barbona ammiccando e gli spifferava sotto voce che passava per donna rosolina anche quello ora che aveva sentito come donna rosolina avesse dei denari e li dava alla gente per farsi sposare bisogna cominciare da levarci dai piedi tutti costoro col berretto gallonato bisogna far la rivoluzione ecco quello che bisogna fare e voi cosa mi date per fare la rivoluzione don franco allora si stringeva nelle spalle e se ne andava indispettito a pestare l'acqua sporca nel mortaio giacché con gente si fatta era proprio pestar l'acqua nel mortaio diceva e piedi papera appena antoni voltava le spalle soggiungeva sotto voce se volesse ammazzare don michele dovrebbe ammazzarlo per qualche altra cosa che gli vuole rubare la sorella ma antoni è peggio d'un maiale tanto che si fa mantenere dalla santuzza piedi papera se lo sentiva sullo stomaco don michele da che guardava con gli occhi torvi lui rocco spatu e cinghialenta quando li incontrava perciò voleva levarselo davanti quelle povere malavoglia erano arrivate al punto che andavano per le bocche di tutti per colpa del fratello tanto i malavoglia erano caduti in bassa fortuna ora tutto il paese sapeva che don michele passava e ripassava per la strada del nero onde far dispetto alla zuppidda la quale stava a guardia di sua figlia con la conocchia in mano intanto don michele per non perdere i suoi passi aveva gettato gli occhi su di lia la quale si era fatta una bella ragazza anche lei e non aveva nessuno che le stesse a guardia tranne la sorella che si faceva rossa per lei e le diceva rientriamo in casa lia sulla porta non ci stiamo bene ora che siamo orfane ma la lia era vanerella peggio di suo fratello ntoni e le piaceva starsene sulla porta a far vedere il fazzoletto con le rose che ognuno le diceva come siete bella con quel fazzoletto comare lia e don michele se la mangiava con gli occhi la povera mena mentre stava là sulla porta ad aspettare il fratello che tornava a casa ubriaco si sentiva così stanca ed avvilita che le cascavano le braccia quando voleva tirare in casa la sorella perché passava don michele e lia le rispondeva hai paura che mi mangi già nessuno ne vuole di noi altri ora che non abbiamo più niente non lo vedi come è andato a finire mio fratello che non lo vogliono nemmeno i cani se ntoni avesse fegato andava dicendo piedipapera se lo leverebbe dinnanzi quel don michele ntoni invece voleva levarsi dinnanzi don michele per un'altra cosa la santuzza dopo che l'aveva rotta con don michele aveva preso a ben volere ntoni per quel modo di portare il berretto sull'orecchio e di dondolare le spalle camminando che aveva preso da soldato e gli metteva in serbo sotto il banco tutti i piatti coi resti che lasciavano gli avventori e un po di qua e un po di là gli riempiva anche il bicchiere in tal modo lo manteneva per l'osteria grasso e unto come il cane del macellaio al bisogno poi ntoni si disobbligava facendo appugni con quegli avventori della malannata che cercano il pelo nell'uovo all'ora del conto e gridano e bestemmiano prima di pagare con gli amici della taverna invece era allegro e chiacchierone e teneva d'occhio anche il banco allorché la santuzza andava a confessarsi sicché tutti colà gli volevano bene come se fosse a casa sua tranne lo zio santoro il quale lo guardava di malocchio e borbottava fra un ave maria e l'altra contro di lui che viveva alle spalle di sua figlia come un canonico la santuzza rispondeva che era la padrona se voleva far vivere alle sue spalle in toni malavoglia grasso come un canonico segno che ci aveva il suo piacere e non aveva più bisogno di nessuno si si brontolava lo zio santoro quando poteva chiapparla un momento a quattro occhi di don michele ne hai sempre bisogno massaro filippo mi ha detto dieci volte che è tempo di finirla che il vino nuovo non può tenerlo più nella cantina e bisognerebbe farlo entrare in paese di contrabbando massaro filippo pensa al suo interesse ma io vedete dovessi pagare il dazio due volte e il contrabbando don michele non lo voglio più no e poi no e la non voleva perdonare a don michele quella partaccia che gli aveva fatta con la zuppidda dopo tanto tempo che era stato trattato come un canonico nell'osteria per amore dei suoi galloni e ntoni malavoglia senza galloni valeva dieci volte don michele a lui quello che gli dava glielo dava di tutto cuore ntoni si guadagnava il pane in tal modo e quando il nonno gli rimproverava il suo far nulla e la sorella lo guardava tristamente con gli occhi fissi rispondeva forse che vi costo qualche cosa dei denari della casa non ne spendo e il mio pane me lo guadagno da me meglio sarebbe che tu morissi di fame gli diceva il nonno e che avessimo a morire tutti oggi stesso infine nessuno parlava più seduti dove erano e voltandosi le spalle padron toni era ridotto a non aprir bocca per non litigare col nipote e ntoni poi quando era stanco della predica piantava lì tutti della paranza a piagnucolare e se ne andava a trovare rocco compare vanni coi quali si stava allegri e se ne trovava sempre una nuova da inventare una volta inventarono di fare la serenata allo zio crocifisso la notte in cui si era maritato con la vespa e condussero sotto le finestre di lui tutti coloro cui lo zio crocifisso non voleva prestare più un soldo coi cocci e le pentole fesse i campanacci del beccaio e gli zufoli di canna a fare il baccano e una casa del diavolo sino a mezzanotte tal che la vespa all'indomani salzò più verde del solito e se la prese con quella canaglia della santuzza nella caverna della quale si era macchinata tutta quella birbonata per gelosia che lei se l'era trovato il marito onde stare in grazia di dio mentre le altre erano sempre nel peccato mortale e facevano mille porcherie sotto l'abitino della madonna la gente gli rideva sul muso allo zio crocifisso come lo vide sposo sulla piazza vestito di nuovo e giallo come un morto dalla paura che gli aveva fatto la vespa con quel vestito nuovo che costava denari la vespa era sempre a spendere e spandere che se l'avessero lasciata fare avrebbe vuotato il sacco in una settimana e diceva che la padrona adesso era lei tanto che tutti i giorni c'era il diavolo dallo zio crocifisso sua moglie gli piantava le unghie sulla faccia e gli gridava che voleva avere le chiavi lei e non voleva star sempre a desiderare un pezzo di pane e un fazzoletto nuovo peggio di prima perché se avesse saputo quel che le doveva venire dal matrimonio con quel bel marito che le era toccato si sarebbe tenuta la chiusa e la medaglia di figlia di maria piuttosto già tanto e tanto avrebbe potuto portarla ancora la medaglia di figlia di maria e lui strillava che era rovinato che non era più padrone del fatto suo che vera tuttora il colera in casa e volevano farlo morire di crepacuore prima del tempo per scialacquarsi allegramente la roba che egli aveva stentato tanto a raggranellare lui pure se avesse saputo tutto questo avrebbe mandato al diavolo la chiusa e la moglie che già lui di moglie non ne aveva bisogno e l'avevano preso per il collo facendogli credere che la vespa avesse acchiappato brasi cipolla e stesse per scappargli insieme alla chiusa maledetta chiusa